Ecco il corner di Richelme, ha respinto Giulio Battista, poi Messi fermato da Kakà che può accederare in campo aperto e il suo marchio di fabbrica, Kakà coast to coast, davanti da Bollarsieri, tocco corto, 3 a 0 70 metri di campo, palla al piede, Messi non riesce a reggere il confronto, Milito è superato, tocco morbido Meravigliosa con cui Kakà porta il pallone, con le sterre del piede, una velocità spaventosa Un'altra volta, un'altra volta che è stata la campanella, un'altra volta che è stata la campanella Corri, un'altra volta per Barca Quintrell ha fatto una scuola per lui Quintrell, si sapeva, si pats Quintrell Quintrell on the head as he skips a round Quintrell, si sapeva, si pats Quintrell, si sapeva, si pats Quintrell, 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 si p Com, 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 com